...quadra, ma non sveppeggiare l'altra, è importante di fare quella propria squadra. E se il Parma ancora meglio, mi fate un bel forza Parma, così vi svegliate qui. Siete pronti? Allora, aspetta, aspetta, aspetta. Uno, due, tre, poi forza Parma. Uno, due, tre, guarda. Allora, siete stati bravissimi? Allora, nel frattempo, speriamo che arrivino, poi lo faremo lo stesso. Prima gli scriviamo e poi facciamo un bel forza Parma. Allora, io dicevo di cominciare, almeno per quanto riguarda la partecipazione, ovviamente, di tutte le scuole. Dicevo che sarà stato effettuato un premio per tutti, perché ci pare corretto altro. I premi sono in acquisto di materiali dati, come so che in questo periodo, leggermente, tra virgolette di crisi, è molto importante. Quindi, devo dire che abbiamo finalizzato i premi. Lo ricordo, abbiamo tre premi. Il primo premio, per quanto riguarda la giuria popolare, di 250 euro, il secondo di 150 e il terzo di 80 euro. Avremo anche, ripeto, il giudizio della giuria, a questi momenti sono qui, con le stesse valutazioni e modalità. 250 euro per il primo premio, 150 per il secondo e 80 per il terzo, che saranno spendibili al Futurino, che ha dato disponibilità ai loro dei sponsor della manifestazione. Quindi, avremo anche più possibilità. Però, era dato, fuori ai principanti, un premio di 30 euro. Io non uso il termine di consumazione, ma lo dicevo molto bene. Mentre invece, è arrivato a un premio speciale dei nostri voti, anche alle comunità che hanno ricevuto i voti. Devo dire che i 9.000 voti non sono pochi. Cioè, in attrazione sì, però, l'importante, come si diceva, esisteva un certo Gino de Koubertin, che diceva che l'importante è partecipare, cercare di vinto. Si può anche perdere, e non trovo che si fa in attrazione. Difficilmente si vince, ma è uno stimolo per continuare, per riprendersi. Per cui, questo è l'invito a tutti i bambini, si dice, dai qua, chiedo una cosa, chi è visto tutto il domenico della mia vita? Cioè, l'asilo, quello che hanno io, dove siete, tu nella volta li chiami, ma mia vita, dov'è? No, ma che non mi sento? Siamo qua? Eccovi là, chi siete letto, dov'è? Vanno avanti, è caduto poi, lo chiedete, dov'è? Vieni a pensare, mi chiedi? No, mi vedo, fatemi sentire! Eccovi là! Poi abbiamo la materna Santa Teresa, dov'è? Eccola! Poi abbiamo il convito Maria Luisa, dove siete? Eccola! Questa Maria Luisa! Poi abbiamo l'infanzia a casa famiglia, so che è rappresentata, eccovi là! Poi, poi, l'elevità, l'acqua famiglia, allora, eccovi là! Poi anche, se proprio oggi, dovrebbe essere la tua stessa, non è un'ora di domanda, come siete? Siete là! Vabbè! Poi, la materna Santa Teresa, eccovi là! Poi, la materna Santa Teresa, San Giovanni, dove siete? Eccovi là, guarda! Poi c'è anche la copertura pura che viene, lo diciamo, alla parmi già, l'altra, io, la mia, va bene! E' sarebbe la sigla trama! Qui abbiamo Santa Rosa, eccovi là, guarda! Qui abbiamo anche i grandi, l'Arte Toschi, dove siete? Ci siete? Non vi vedo! Sono timidi, sono là! Sono quelli grandi, eh! Il buon pastore di sotto è rappresentato io, non siete, la sorella mia, eccovi là! Poi abbiamo l'infanzia a Mago Mervino, ci siete? Eccovi là! Allora, noi abbiamo, ecco, il Domenico Maria Vila, che abbiamo già citato prima, e la media porta che so che è rappresentata, non vi vedo, siete lì! Abbiamo un po', così, anche nominato tutte le scuole che hanno partecipato! Allora!